Seminario all'Università Magna Grecia sui cento anni dell'istituzione delle Parchia di Lungro tra diritto, storia e cultura. Ai microfoni di Calabria 7, Monsignor Donato Oliverio ha spiegato l'importanza di un seminario attraverso cui gli studenti possono comprendere come in Calabria esiste una religione tra Oriente ed Occidente. Siamo grati all'Università di Catanzaro per l'invito. Ci troviamo qui quest'oggi per presentare la nostra realtà, la nostra eparchia, l'eparchia di Lungro degli italo-albanesi dell'Italia continentale. L'eparchia compie cento anni, il primo centenario. Era il 13 febbraio 1919 quando il venerabile Papa Benedetto X V istituiva l'eparchia di Lungro degli italo-albanesi dell'Italia continentale, con ripercussioni sociali, antropologiche e naturalmente anche ecclesiali. Lo scopo di questo incontro qui all'Università Magna Grecia? Lo scopo di questo incontro è quello di presentare quest'oggi un sussidio che abbiamo approntato su questa nostra realtà e perché venga ancor meglio conosciuta anche dagli studenti delle università. Una piccola diocesi cattolica bizantina per i fedeli italo-albanesi, precursori del moderno ecumenismo. Così San Paolo VI definì i fedeli italo-albanesi nel 1968 in occasione del quinto centenario della morte di Giorgio Castriota Scanderbeck, il grande eroe. Quale beneficio per gli studenti che partecipano a questo seminario? Quale conoscenza possono acquisire e che può farli insomma maturare nella loro vita? Vogliamo trasmettere agli studenti che in Calabria la Chiesa è bella perché respira a due polmoni, Oriente e Occidente. E in questo tempo straordinario che è il tempo dell'ecumenismo a cui il Papa ci richiama continuamente, ad essere costruttori di ponti. Grazie. Grazie.